Nuovo affondo di Barack Obama contro Donald Trump. Parlando a Columbus, nell'Ohio, il capo della Casa Bianca ha definito il miliardario inadatto a fare il presidente. Mentre il candidato sta mettendo in imbarazzo anche il suo partito per lo scandalo delle presunte molestie, Obama ha assicurato di aver parlato con molti repubblicani che non lo apprezzano. La scelta tra i candidati non è mai stata così estrema. È una scelta tra una persona qualificata, come sempre è stata. E' qualcuno che ogni giorno, ogni volta che parla, si dimostra inadatto e non qualificato per questo compito. Anche Hillary Clinton, che ha fatto un'apparizione a sorpresa in un ufficio locale della sua campagna a San Francisco, ha sottolineato che in questa elezione si contrappongono due visioni dell'America totalmente diverse.